Mi chiamo il bel e salva formon, io ho già un giorno infortunato, potrei mangiare tutti i dolci che più desideri. Oh, addio! Aspetta dove stai andando, ho già fatto tutti i dolci che più desideri, non puoi mangiare i miei dolci. Non credo proprio signora, conosco bene le favole, se mangio con me quelle caramelle, finisco nel forno. Quali sono a mangiarmi? Che divertente, sei una mezza tantissima divertente, fa 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 fa, io sono una baronessa, mangio solamente i dolci. Oh, vedi pure sto caso, mi dispiace, io non ti criticare la baronessa. Ok, troppo siamo amici, adesso chiamami il baron. Devo ammettere che ammiro che tu abbia resistito al baron, ho tolta molto alle palle. La maggior parte di quei nostri antibambini voglia essere, se esistono. Devo ammettere che non mi pensare da più, è il guida che parame, sa? Ma me lo scommero tutto, infatti non posso lasciare scioperle, è una cosa più lì, caro che nessuno. Ma te lo racconderò un'altra volta. Perchè qualcuno dovrebbe voler lasciare questi posti esattamente? Perchè trova di fraganmai le mie due rette? No, no, no. Non parlare a nessuno di sciocca, è quello tu vuoi. Mangia tutto le caramelle che desideri, ma non il mio castello di caramelle, nemmeno un gusto super piccolissimo. Va bene, c'è tanta la barbola qui, perché dovrei mangiare il tuo castello? Non potrei spiegarmi l'occhiamento, però è irresistibile. Non potrei spiegarmi l'occhiamento, ma non potrei spiegarmi l'occhiamento,